E' un bel drago, puoi portarmi alla torre? Avrai un dolcetto! Già! Sloggo arrosto per te e per me! Andiamo Aaron, non c'è tempo per le coccole, di a Brago cosa fare e lui obbedirà, è solo un animale Non ascoltare, mister Brontolone, sei un bravo ragazzo, Brago Forza, facciamo l'ipersalto! E ora, ossessione oscura! Avete sentito? Erano i Darkan? Beh, è troppo tardi ormai Andiamo! Presto ricostruiremo l'Elestar completamente e Gorm sarà salva! Alla grande! Ora coccole, mister Brontolone! Non Brontolo, sono concreto Le Hyperbeast devono sempre obbedire ai comandi, altrimenti... Ma che succede? Credo che le Hyperbeast ce l'abbiano con noi Cosa? Ma... No, qualcosa non va Non mi dire Guardate, hanno preso l'Elestar! Torre, chiudi la porta Torre, che cosa fai? Graio, ora basta! Smettila subito! Dobbiamo recuperare l'Elestar! Chiamo un Gormita! Cosa? Combattere i nostri amici? Sembra che siano i nostri amici a voler combattere! Non puoi chiamare un Gormita adesso! Avete già chiamato le Hyperbeast! Cuno di luce! Bene! Presto, l'Elestar! Troppo tardi ormai Inseguiteli, io cerco di trattenere Vrago Ti aiuto, gli piaccio di solito Sta calmo, Vrago Va tutto bene Così bravo, Gon-Gon Attento! Cattivo, Gon-Gon Vrago, stai bene, amico! Guarda, un soldato Stava controllando Vrago Esatto! Non potendo entrare nella torre Ci siamo impossessati dei vostri insolsi animali E ora via, molene! Stare lo daremo subito a Xator Riusciremo ad abbattere il muro tra Gorm e Darkor E Boidus governerà Gorm per sempre! Ah, 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 ah ah! Davvero molto bene, Vrago Scompattibili Gormiti Senza limiti Gormiti Raggiungibili Chi mi fermerà The legend is back The legend is back Dormiti Dormiti